Buongiorno e bentornati a una nuova edizione di TG Chrome Abbiamo paura in via Alto, bello Melone, questa mattina quando è andato fuoco una porzione di appartamento Due bambini sono rimasti lievemente intossicati ma le loro condizioni non destano preoccupazione Sul posto il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, l'incendio si sarebbe propagato dai fornelli della cucina Percheggi verso una svolta il comune sarebbe pronto al divorzio con Saba La società che controlla anche il parking sotterraneo di Piazza Marconi Oltre 500 stali a raso nelle posizioni più prestigiosi in centro Ecco che cosa sta accadendo in queste ore Tira area di divorzio tra il comune di Cremone e Saba La società romana che gestisce il parcheggio sotterraneo di Piazza Marconi 500 posteggi a raso in pieno centro La municipalità è infatti intenzionata a liberarsi del contratto capestro Che la lega alla società fino al 2046 E che la obbliga ogni anno a ripianare lo sbilanciamento tra previsioni di incasso e l'introito effettivo Conti che continuano a non tornare e che costringono il comune a sborsare diversi milioni di euro Della questione se ne sta occupando direttamente il sindaco Gianluca Galimberti In campo oltre allo staff tecnico c'è anche quello legale Perché trovare una mediazione economicamente vantaggiosa E che possa essere accettata da tutti gli attori in gioco non sarà semplice L'obiettivo del comune è comunque uno Rientrare al più presto in possesso dei parcheggi per riattribuirli al gestore AM Così da riuscire ad offrire tariffe più basse all'utenza E favorire al contempo il ritorno in centro a beneficio del tessuto commerciale cittadino Calcolatrici alla mano l'amministrazione Galimberti si gioca una partita importante A pochi mesi dalle elezioni Ma sa che l'investimento odierno di milioni di euro potrebbe essere ben poca cosa Rispetto allo stilicidio finanziario previsto dal contratto con Sava per i prossimi 38 anni Non si placano le polemiche per il rifiacimento del comparto tra Corso Garibaldi e Via Goito Una discussione sempre più accesa quella sul riordino di Corso Garibaldi e Via Goito Ma più in generale sulle scelte che li riguardano Al via ci sono i lavori in Via Goito con una spesa a carico del comune di 100.000 euro Una zona che era in attesa di una nuova destinazione d'uso da 16 anni e che sarà riconvertita in una piazzetta Una soluzione poco apprezzata da residenti e commercianti che avrebbero visto in un parcheggio una soluzione più utile ed economica L'assessore al territorio Andrea Virgilio risponde però che non si tratta di un progetto definitivo Ma di un primo passo che dovrà vedere proposte più articolate per il futuro Anche in collaborazione con soggetti privati escludendo comunque a priori l'ipotesi di un parcheggio E intanto arrivano critiche anche dal Movimento 5 Stelle L'ex assessore all'ambiente Bordi ci va giù duro sulla pavimentazione scelta per la futura piazzetta di Via Goito Un misto macinato da discarica e misto naturale di ghiaia e sabbia a granulometria selezionata Che all'ex assessore sembra una soluzione discutibile Canile è sempre più scontro tra l'amministrazione e gli zoofili Entro settembre sarà concluso il primo lotto del canile sanitario realizzato dal Comune di Cremona in Via Casella Una struttura che deve ospitare per 10 giorni i cani randaggi rinvenuti sul territorio di Cremona Prima che possano venire trasferiti in altre strutture adottati o recuperati dai proprietari Al momento questo servizio viene svolto dall'Associazione Ampana Anche si fa carico dei cani rinvenuti a Cremona in provincia accanto al canile Rifugio la Cuccia e il Nido di Calvatone Il tema del canile è quanto mai caldo e ormai da tempo in corso una diatriba Tra Comune di Cremona e i precedenti gestori della struttura Qui l'attuale amministrazione ha tolto la convenzione bandendo una gara pubblica Che è stata molto contestata Ora che i lavori stanno per essere ultimati è l'ATS a pubblicare un bando per manifestazione di interesse Destinato ai potenziali futuri gestori della struttura cittadina Presto una nuova puntata di quella che ormai sta diventando una vera e propria telenovela Le notizie dall'Italia Una bambina libanese di due anni è morta sul volo all'Italia Beirut-Roma Che è stato per questo dirottato per i soccorsi Ed è atterrato nell'aeroporto di Bari Palese Secondo quanto finora ricostruito dagli agenti della Polare e dalla Polizia di Stato La piccola è stata accolta da una crisi cardiaca durante il volo Una delle hostess gli ha prestato il primo soccorso per rianimarle Ed è stato deciso quindi l'atterraggio nell'aeroporto più vicino Una volta a Bari la bambina in viaggio con i genitori È stata presa in carico dal personale medico del 118 Che ha continuato le manovre di rianimazione Ma per la piccola non c'è stato nulla da fare Caso 18 100 migranti ospitati nell'hot spot di Messina Dopo essere sbarcati a Catania Sono in partenza con il pullman verso il centro di accoglienza di Rocca di Papa In provincia di Roma Gli stranieri giungeranno a destinazione dopo un viaggio di 10-12 ore Altri 39 sono rimasti nell'hot spot In attesa di essere trasferiti in Albania e in Irlanda Nazioni che hanno dato la disponibilità all'accoglienza Francia il governo Macron perde un pezzo Il ministro della transizione ecologica francese Nicolas Houlot Annunciato questa mattina ai microfoni di France Inter Che lascerà il governo Avendo ormai la sensazione che l'ecologia non sia una priorità Houlot ha affermato di non avere ancora avvertito il premier Edouard Philippe Nel presidente Emmanuel Macron Aggiungendo poi che la sua azione ha permesso soltanto piccoli passi in campo ambientale Di essersi sentito solo sui temi ambientali Donald Trump annuncia un accordo commerciale con il Messico Un'intesa che manda in pensione il nome NAFTA Ovvero North American Free Trade Agreement L'intesa esclude il Canada che è parte del NAFTA Ma che non ha partecipato alle trattative delle ultime settimane a Washington L'accordo fra USA e Messico include anche auto e prevede secondo indiscrezioni Che una parte delle vetture sia prodotta da lavoratori che guadagnano almeno 16 dollari l'ora Siamo allo sport, terzetto azzurro ai campionati mondiali a squadre per il golf Nel World Amateur, un team championship e spirito santo trophy Alessia Nobilio, Caterina Donne ed Emily Alba Paltrinieri Difenderanno il tricolore in Irlanda Saranno 59 dei compagini in campo che si sfideranno in un torneo sulla distanza delle 72 buche Dopo il capolavoro del 2016 a Playa del Carmen La Corea proverà a centrare uno storico bis Mentre l'Italia avrà il compito di migliorare il suo 14esimo posto ottenuto in Messico Passiamo al calcio Parliamo della Cremonese che dovrà fare a meno del centroavanti Adriano Montalto Per almeno un mese Il giocatore nuovo acquisto Grigio Rosso Subito infatti un infortunio durante la prima di campionato contro il Pescara Riportando la frattura del Malleolo Ora mister Mandorini dovrà ricalibrare la squadra Mentre la società potrebbe decidere di ritornare sul mercato Questa per noi era l'ultima notizia L'appuntamento con TG Crom Torna domani sempre alle 13 Buon proseguimento di giornata a tutti